81. Di tutto quello che ho osservato con i miei occhi, io mi sono convinto che quando tutti i lavori delle vie provinciali e comunali saranno compiuti, quando saranno inganalate le acque stagnanti nella vallata e quando due rotaie di strada ferrata scorreranno sui fianchi dell'Alburno o su quelle dei mondi di Capaccio e Lavorino, quando sorgeranno degli istituti di credito agrario e i proprietari manderanno i loro figli a studiare agricoltura razionale nelle scuole agrarie del re, sono convinto, diceva, che questo cantuccio d'Italia è ferito tanto produttivo in potenza, lo sarà nel fatto.